Non si placano a Gorizia le polemiche per la nuova chiusura della scuola media Leopoldo Perco di Lucinico, cinque giorni dopo la decisione di riaprirla dopo l'incendio che l'aveva colpita nell'ottobre scorso. Un sopralluogo a sorpresa effettuato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Gianni Cavallini ha accertato che a causa del forte odore era stata effettuata un'aerazione che costringeva di fatto gli alunni a rimanere in classe con cappotti e giubbotti. E nonostante tutto nell'atrio era fortemente presente un odore acre riferibile a solventi e prodotti di combustione. Per il Comune, assicura il Sindaco, non c'era alcuna fretta di riaprire. Dopo l'incendio doloso di ottobre noi abbiamo detto che si rientra soltanto ed esclusivamente quando la sicurezza e la salute saranno assolutamente garantite. L'azienda sanitaria ci ha detto sì che si poteva rientrare. Quando l'azienda sanitaria dice al Sindaco che si può rientrare, in realtà il Sindaco deve far rientrare perché diversamente si tratterebbe di interruzione di pubblico servizio. La riapertura della scuola non avverrà prima del prossimo anno scolastico. Adesso però ho chiesto all'amministrazione regionale che mi mandi una task force in grado di assicurarmi con assoluta certezza a me e alle famiglie che non soltanto quando i ragazzi torneranno in un ambiente rigorosamente salubre ma anche la decente scuola elementare. La scuola elementare che peraltro non è stata toccata dall'incendio ma voglio sgombrare il cielo da qualsiasi nube.